bello a tutti ragazzi siamo tra i su clash royale ragazzi sono arrivati in arena 7 ora guardate qui in arena 7 però l'ho trovato solo questo è più facile da trovare poi scuola 2015 coppe con questo tecno io ho vinte allora da al 0 5 che ho vinto vittoria 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 poi questa l'ha persa vittoria l'ha persa e poi la vinga 15 poi ci sono portate sto ripieno guardate allora ho fatto un po di guardate guardate anche per destra guardate guardate sono difficilissimi guarda guardate guardate questa terra guardate questa terra un po' di mani un po' di mani però devo dare un po' di mani 13 punti in lì qua arriva non posso la rende conto non posso la rende conto pensate che un po' di mani 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 ora poi io devo dire quanto io sono arrivato così facciamo il classic challenge ora facciamo due battaglie come sempre mettete il deck di progetto anche lo fatto dall'inizio e allora metate il servizio e poi la servizio e poi la servizio e quindi and questa don' mindou ci sono i qui e ahhh allora non si rida non si rida non si rida si rida si rida si rida ma non c'è un po' come viverebbe qui stiamo evadute 8 punti vede primes contro primes ho sbagliato ho sdentato ragazzi ho perso ho perso l'atore Oh, bravo, ragazzo, non è un po' riuscito, non è un po' riuscito. a 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